purtroppo questa è la nostra cultura difficile da estirpare hanno arrestato toni colombo e tina rispoli basterebbe guardarli per capire i tipi che sono sempre stile lì degli spada no molto kitsch arrestati perché facevano affari arrestati e non indagati arrestati perché facevano affari con la camorra ragazzi arrestati e ma i neomelodici napole napole mia io sono napoletano geni e sregolatezza